Bentornati, bentornati in diretta. Beh, lo sapete, al mio medico vi presentiamo sempre delle grandi novità e per noi è un onore avere qui in studio il professor Massimo Massetti. Benvenuto, professore, che è il direttore dell'area cardiologica del Polizino Gemelli di Roma. Perché? Perché è stato impiantato, pensate, sono stato impiantato dei cuori artificiali wireless, ossia senza fili, senza batterie. Ebbè, ha fatto parte il professore di un'equipe internazionale, questa operazione si è svolta in Kazakistan, qualche tempo fa, qualche mese fa, e devo dire che questi due pazienti poi ci racconterà anche il decorso di questi due pazienti che vivono con questi cuori artificiali. Allora, è un orgoglio innanzitutto, grazie, grazie davvero, perché avere un cardiochirurgo di questa fama così importante per noi italiani ci fa stare già meglio, io lo dico sempre. Allora, come nasce questa tecnologia, professore? Ma questa è una tecnologia a cui stiamo lavorando già da tanti anni, perché effettivamente ricercare la possibilità di sostituire la funzione del cuore, quando questo non funziona più, con dei sistemi meccanici è sempre stato il nostro obiettivo, per non dire il sogno. E già da alcuni anni noi lo facciamo con questi dispositivi, che sono delle pompe miniaturizzate, con delle problematiche che poi magari vedremo anche un po' in dettaglio. E adesso con questa tecnologia abbiamo risolto molti problemi, perché questi dispositivi, questi cuori artificiali parziali sono impiantati completamente all'interno del torace e possono funzionare senza avere, diciamo, dei collegamenti con l'esterno, quindi con questo sistema di trasferimento wireless. Ecco, come si è svolto, come si sono svolti questi due interventi? Perché sono due i pazienti a cui avete impiantato questo cuore artificiale. Come funziona questo nuovo cuore artificiale? Lei ci ha portato che cos'è esattamente? Allora, innanzitutto questo è un ventricolo artificiale, un cuore artificiale parziale, che si viene inserito nella parte più malata del cuore, quando questo non funziona più. E come vedete è una pompa miniaturizzata, una piccola turbina, che per funzionare ha bisogno di energia elettrica, che viene trasportata alla pompa attraverso un cavo che esce dall'addome, perché deve essere collegato a una sorgente, che è una batteria portatile. Quindi il paziente, dopo l'intervento, vive con questo cuore artificiale parziale, attaccato a una batteria esterna, che viene normalmente trasportata in una piccola borsa. Il problema è che il paziente può vivere bene, svolgere tante attività, ma a livello del passaggio, quindi di questo cavo, a livello dell'addome, ci sono delle infezioni che sono abbastanza frequenti e che sono causa anche di degenze, di ritorni in ospedale, di terapie molto pesanti con antibiotici. E poi la presenza di questo sacchetto permanente, psicologicamente, altera molto la qualità di vita. Per cui la svolta è stata proprio questa? La svolta è stata di togliere tutto questo. Quindi adesso questo dispositivo è all'interno, impiantiamo anche una batteria ricaricabile all'interno del torace e l'energia che è necessaria viene trasferita con questa tecnologia innovativa. Senza fili. Senza fili. Per cui la possibilità di avere più infezioni e questo, insomma, è il futuro. Sicuramente saranno ridotte in maniera significativa. Significativa. Voi che effetti avete notato su questi pazienti? Due pazienti? Sì, assolutamente. Questo è un progetto che nasce da molto tempo, a cui hanno partecipato diverse echipe internazionali, tra cui noi italiani e si è concretizzato con questi primi impianti che hanno dimostrato fin dall'inizio, diciamo, il post-operatorio, dei risultati eccellenti sia per quanto riguarda il funzionamento di questa tecnologia ma anche gli effetti sui pazienti. Perché abbiamo impiantato in due pazienti giovani, vediamo questo paziente che si chiama Ismail, che ha 24 anni, che aspetta il trapianto e che dopo pochi giorni è tornato a vivere normalmente, addirittura a fare un bagno in piscina che per lui era un sogno. 24 anni e l'altro paziente di 50... Di 40... Ah, ma sempre giovane, insomma, sempre 40 anni. Sempre giovani, sì. Sempre giovani. Questa, insomma, è la sperimentazione, magari più avanti, magari con... Ma sono stati utilizzati questi pazienti che aspettano il trapianto, le liste di attesa sono lunghe, ecco, quindi per dare la possibilità di arrivare al trapianto cardiaco in condizioni ottime, diciamo, vengono impiantati questi dispositivi. Lei ha parlato in attesa di trapianto. Allora, questa soluzione, professore, è una soluzione ponte? Non è una soluzione definitiva? No, in effetti si possono utilizzare per entrambe le indicazioni. Chiaramente quando un paziente è in attesa di trapianto, questo è logico che viene utilizzato a questo proposito, ma anche nei pazienti, e ce ne sono tanti, che non sono candidati al trapianto, si impiantano questi dispositivi che ora avranno anche delle complicanze minori e che possono durare tutta la vita. Noi abbiamo già i risultati clinici della durata di queste pompe di quasi dieci anni, quindi possiamo dare una prospettiva di allungamento della vita e di qualità. E da casa ci stanno chiedendo in quali casi si può utilizzare? Cioè, questi due pazienti immagino soffrissero appunto di un'insufficienza cardiaca terminale, molto grave. Esatto, l'insufficienza cardiaca è molto frequente, però all'inizio si cura con le medicine, con tante terapie, terapie elettriche, poi quando alla fine non abbiamo più munizioni, diciamo, la sola possibilità è di sostituire parzialmente la funzione cardiaca e quindi utilizziamo queste pompe. Ecco, i segnali, no? A chi è indicato questo tipo di apparecchio? Non soltanto in fase, magari questo, in fase sperimentale, si sono stati scelti questi due pazienti perché, insomma, la loro vita era in pericolo, immagino. Allora, ci sono altri casi in cui lo possiamo utilizzare? Sì, appunto, dicevo, quando questa insufficienza cardiaca, i cui sintomi li vedete ricordati qui, arriva in una fase in cui non risponde più alle terapie convenzionali, ebbene, si utilizzano questi dispositivi, sia in attesa di un trappianto, ma anche in alternativa. Ecco, quindi abbiamo anche pazienti di una certa età, globalmente tra i 65 e i 75 anni, Che è l'età quella più a rischio, immagino. Esatto, in cui questi pazienti possono beneficiare di queste terapie meccaniche, diciamo, di sostituzione. Quando arriverà in Italia? Quando si potrà pensare di fare questi tipi di interventi anche in Italia? Sicuramente prima possibile, questo vuol dire che ci vorranno ancora alcuni mesi perché c'è bisogno di tutta una fase di certificazioni che sono obbligatorie quando una tecnologia innovativa viene importata, diciamo, alla fase clinica. Lo studio sta continuando, gli impianti adesso seguiranno, e poi, non appena questi step, diciamo, burocratici, anche di verifica dell'efficienza e della sicurezza saranno passati, impianteremo i primi casi nei nostri pazienti in Italia. Per fortuna, allora aspettiamo, aspettiamo che questi trapianti, diciamo così, artificiali arrivino anche in Italia. Grazie di cuore al professor Massimo Massetti per averci dato queste novità in anteprima. Grazie.